Bruno Pallardi è stato anche uno dei bravi, perché aveva già delle esperienze, era già stato in Val Brandè, lì nell'estate, però voglio mio seguire nelle Fiume Verdi, perché è Teg Press, il rosso lo sento, almeno se è così ancora, ci conosciamo, ma dopo la guerra o ci siamo visti una volta o due, appena e basta non abbiamo mai stati assieme, proprio in qualche incontro, in qualche trasferimento, sia da loro sia i nostri trasferimenti, perché i nostri trasferimenti andavano un po' dappertutto, dove c'erano i punti di appoggio, e il Pelissari, Davide Pelissari, che è morto, Davide Pelissari e Bruno Faro sono riusciti a scappare dal rastrellamento, e due, in quell'epoca, quando Grecia è partita a secchi, sono scappati da quel rastrellamento, lì, gli è nato a finire sul lac di sé, gli è nato a finire, tanto è vero che dopo la guerra, me è Bruno Faro, sono andato a fare la girata, ha scussato, erano scappati da quel rastrellamento, lì, allora così gli fa per andare a fare esserci un lac di sé, ha attraversato tutta la Valtrompio, e poi con il combattimento, con il rastrellamento in corso, dovevi andare tutto... Lo ricordo per un fatto, che la moglie, ecco Stefano Borghesi si chiamava, quello che aveva la casa là sul seno, mi ricordo che sua moglie mi ha detto, quando che stai che Bruno Faro e Pelissari, le aveva dato il letto di dormer, beh, e avevano una pistola, nel mettere solo una pistola, le incassi tu, pam, che bisogna tutte le capise. Grazie a tutti.